Buongiorno Assessore, si scappa? Non ci si presenta? Perché non vi siete presentati in aula? Voi fate i consiglieri e gli assessori una mozione di sfiducia, se avevate i numeri potevate tranquillamente bocciarla. È uno schiaffo alla città Mazzariello? Perché è uno schiaffo alla città? Perché voi prendete uno stipendio, come tutti. Lo prendi anche tu Luigi. Ma io mi presento in aula, voi oggi eravate assenti e quindi una mozione di sfiducia voi dovete presentarvi e discutere e votare secondo coscienza. E che cosa cambia? Cosa cosa cambia? Che state prendendo per il culo la città? Sei convinto? State prendendo per il culo la città, è venuto Massimo Battista con un tumore grave e voi assenti? Vergogna! Vergogna! Hai finito la scena? Non ho finito nessuna scena! Non tagliare, non tagliare! Vi dovete vergognare davanti alla città! Vi dovete vergognare davanti alla città! Politicamente! Nulla di personale! Politicamente! Se l'amministrazione cade per un progetto esistente... E voi vi presentate in aula e non vi presentate in aula e disertate il Consiglio Comunale! Assente isti della... Ci sono già adesso dieci candidati sindaci, tutti del PD! Non mi interessa 10, 15, non mi interessa il PD! Oggi sono venuti anche i supporters! Non mi interessa! Voi vi dovete presentare... Voi dovete dare risposte alla città! Assente isti! Consigliere come te! Ok? Benissimo! Sappiamo insieme cosa è successo in questo anno e sette mesi! Eravamo schiavi di un partito che voleva governare solo... E allora oggi? Oggi? Oggi questo partito... Facevate valere le vostre ragioni! Oggi questo partito... Non devo chiedere scusa a nessuno! Non mi chiedere scusa alla città! Devono chiedere scusa a chi ha governato sino adesso... Ora voi siete in maggioranza per causa di questi signori! Non merita voi! Non merita voi! Perché vi dovete presentare il Consiglio! Prendete lo stipendio a fine mese! Non serva che gridi! Il problema è perché non ti presenti! 5.000 euro al mese! 5.000 euro al mese! 5.000! 5.000 Netti! 5.000!